ehi la ciurma io sono mazzatessa e ben ritrovati qui su expeditions room allora dobbiamo riportare eramus all'accampamento di lopullus ok dopo che abbiamo avuto quel fallimento brutale di prima va bene dobbiamo andare entersi no c'è l'audio un po altino adesso sono solo io è un problema mio don't forget to use tactical items once crafted you can easily replenish their spent charges in your tent quella mia tent spero che adesso li replenish no comunque termos l'abbiamo riportato safe no io parlare qua con loro per vedere come va la vita ma nel mio inventario posso vedere se ho dei e non li ho finiti infatti chissà dove li riempirò la mia tenda qual è la mia tenda forse me lo dicono adesso allora questo punto qua cosa mi sta a significare boh parliamo con lo c***o immagino beh grazie grazie abbiamo fatto del nostro meglio fortuna fortuna was on our side i only wish i could have saved more spero solo che avrei potuto fare avrei voluto salvare più persone e se effettivamente eh sì effettivamente eh let us hope she never forgets that i don't know about her but i will never forget you saved my life i owe you an apology and a promotion ah delle scuse e una promozione per averli salvato la vita in mio stato scusato non sono in forma per promuovere la legione e dopo le vostre azioni oggi le legionari consideravi un eroe un eroe addirittura per salvare le loro vive in risultato sono disposti a morire io qui ti promuo a legatos ah adesso siamo un legato yeah spacchiamo tutto ma quale sono le responsabilità di un legato però al comando della legio victrix ma non abbiamo mai fatto niente nella nostra vita ma non abbiamo mai fatto niente nella nostra vita ma non abbiamo mai fatto niente nella nostra vita non sono pronto per queste responsabilità tu sei non c'è nessuno in roma che è più in grado di poterlo giudicare di me il tuo obiettivo è di prendere Mithilenea as quickly as possible con Archilaus in charge of its defences questo non sarà facile ah però ci mandano a prendere Mithilenea ed effettivamente dice che non sarà facile non dovrebbe occuparsi nello cullo per ora sufficio di dire che ho altri affari chi è Archilaus? il generale preferito di Mithridates uno dei migliori migliori miliardi del mondo ho capito uno dei elementi militari migliori del mondo ci manda al contro eh sì la sua sconfitta si è però eh allora sapevano del passaggio sagreto quindi probabilmente abbiamo delle spie pensi che attaccare ora sia saggio? Archilaus ci aspetterebbe di essere sbagliati dopo quella sconfitta un attacco diretto sembra impossibile per lui che è il motivo che abbiamo bisogno di attaccare ora ok si aspetta che sia che non si aspetta che attacchiamo adesso dopo aver ricevuto quella sconfitta ma cosa devo fare? qual è il piano? ma come? devo decidere io? ma io non ho messo niente va bene cosa aspettiamo andiamo cosa dice acceso? a tuo servizio legate eeeh 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 ci sono tante brandine ma forse qua no non posso non posso cliccare questa roba eeeh ci sono delle cose ma non sono mie evidentemente questo è l'equipaggiamento dei miei follower non lo so eeeh e qua non vedo niente però da prendere forse questa è la mia che è più bellina non posso entrarci no e qua cosa? qua non posso neanche entrare non so dove sia la mia tenda boh non ne vedo altre qua all'interno vai se abbiamo una quest chi è che c'è qua sopra? mi è sembrato di vedere qualcuno ma no no forse era solo il coso la del cancello eeeh andiamo qua ma devo uscire eeeh ok dov'è che sta sta la legione allora? king of hill oh ah gli nemici con ieeh la loro sono dei leader eeeh ucciderli eeeh diminuisce il morale degli avversari buono spersi allora adesso siamo al comando della legge Victrix abbiamo 4.800 uomini e sta all'outpost di Calloni ok anche questo qua prima che ti possa eeeh disporre della tua legione devi reclutare almeno un centurione che possa guidare la legione in battaglia vai all'outpost della legione adesso ok quindi dobbiamo andare a Calloni ok va da togliere sempre lo spazio entriamo a Calloni eeeh gli untrained li abbiamo scoperti si ed effettivamente è un buon suggerimento dai va bene siamo pronti ah ok ah ok ok serve il prefetto della legione serve il prefetto della legione non credo che sto sottolineando quando mi dico la forma che hai fatto la legione durante l'ambra era una delle lezioni migliori che ho visto nella mia carriera ok sono tutti emozionati ahah sono in accordo terrestri e si prende molto per impiegare due soldati vecchi come noi ok bene mi sarei più per la prima ma la prima è un po aggressiva dice avrei fatto qualsiasi cosa lasciamo perdere quello che avrebbe fatto chiunque lasciamo perdere mentre l'altra invece è tutto il contrario Le vostre parole mi onorano, sono appena nuovo a questo comando e quindi mi affiderò completamente a voi per aiutare Farei la prima forza, anche se è un po' brutale Ok, sono al mio servizio Ok, hanno molta esperienza Quando l'hanno tirata su questa legione? Ah, una legione nuova, ok Ok, sono tutti recluti giovani Ma vogliono farsi il nome Qual è il tuo ruolo nella legione, Turius? Primo Spillus Ok Dei 60 Centurioni è quello con più esperienza D'accordo E tu Agnatius, che cosa fai come Prefectus? Ah, sì Orestes è quello che ogni legionario guarda in battaglia Ma io sono quello che vengono in camp Ok, si occupa delle cose dell'accampagno di qui che altro Va bene, si controlla l'occupamento di qui Ah, dobbiamo migliorare delle cose nel campo Ok Ci hanno dato un incarico di assediare Mitilene Sembra un lavoro del Primo Spillus Seguitemi Selezioneremo alcuni centurioni per guidare la legione in battaglia Ok, dobbiamo reclutare dei centurioni Come dobbiamo reclutare dei centurioni? Vabbè, ok Ah, buongiorno a lei Ha preparato una lista, bravo Mi piace Ah, cliccare sulla tenda Ah, ok Come l'ho detto, è proprio malissimo E fai attenzione alla classe e alle specializzazioni di comando Ok Ogni battaglia può essere più adatta a un centurione con una classe particolare o con una specializzazione particolare Sarebbe meglio reclutare uno per ogni classe e per ogni specializzazione Per essere sicuro di avere sempre qualcuno pronto per guidare in qualsiasi tipo di battaglia Ma non è lo che lo utilizzi, guadagneranno dei punti E quelli che guideranno la battaglia avranno ancora più punti degli altri Va bene Quindi noi abbiamo Ah, ce n'è una lista mica da ridere Ah, ci sono due Princeps qua Recruiter, social Logistic specialization Questi due non li ha sbloccati O che cosa vuol dire? Infantry specialization, cavalry specialization O forse sono quelli della sua classe Perché anche lui ha gli stessi due No, questo è diverso però Artillery e Logistics Artillery e Logistics Allora, Princeps No, questo è un Triarius però Abbiamo tre Triarius Abbiamo tre Vele Abbiamo tre Sagittarius Il Triarius Era la fanteria leggera, vero? La fanteria leggera Ne abbiamo forse un po' meno in questo momento Però abbiamo solo il Solo Bestia, mi pare O Bestia e un Vele Non mi ricordo più Però non ho capito se questi li porti con te O cosa? Abbiamo trattato perché sono Sono quelli che sono un po' più leali Alcuni di meno Questo è un Vele Leale Però ha meno Cose Meno caratteristiche Questo è un Vele Sì indifferente Anche questo però Infantry Reckless Scout E Agreeable Ok Sagittarius Ma andrei forse Un Sagittarius Però questo è un Sagittarius Medico Ah no Cavolo Il Triarius È quello con l'asta Quindi è quello che cura Mi sa E questo è quello La fanteria leggera Il Vele Freeloader Difficile Difficile scegliere qualcuno Di tutti questi Indifferente Artillery Social E Cautious Scout Outcrafty Cavalry Pre Esitante Sceglierei Un Sagittarius Ma non su chi dei tre Ci sono due esitanti E un indifferente Però l'indifferente Mi fa paura Della cosa difensiva Che magari Non è proprio Il top La difensiva Cioè Non lo so Dipende da come Ci facciamo le cose Non so niente Logistic speciale Tra i due Andrei su questo Forse Anche se sembra Un po' Un figlio di papà Ed è specializzato In cavalleria Boh Prendiamo questo Cosa che ha Ah quindi Li uso per combattere Anche Prendiamo questo Ma quanti dobbiamo Prenderne Dobbiamo prendere Tutti e quattro Ah mi sa di si Di princeps Allora chi Prendiamo Questo ha più caratteristiche Cavalleria specialization Architect Crafty E ascetic E ascetic E questo mi piace Di più degli altri Più roba Questa è logistica Sociale E recruiter Però potrebbe essere Anche buono Il morale Di quattro punti Ogni trentadue ore E il logistics Potrebbe tornarsi utile Magari prendiamo lui Allora Anche se indifferente Perché qua Un crafty Abbiamo già preso L'altro Crafty E il fatto che mangia meno Non credo Che ci preoccupi troppo Vai Prendiamo lui Poi di triario Prenderei Disgruntled Non mi ispira molto Però Può curare Burn, infection, poison E anche medico Questo ha No Questo è un dottore A cavalry specialization Questo invece è Fisico e medico E infantry Non prenderei tutti Con cavalry Però Perché mi sa che Anche l'altro L'abbiamo preso Con cavalry No Non l'abbiamo preso Con cavalry Abbiamo preso Ehm Abbiamo un cavalry E l'arciere Ehm Ma su tutti e tre Con cavalry Comunque Questi triarios No No Questo qua è infantry Ne ho su questo Allora Dai Prendiamo lui Che è un portabandiere Va bene E poi Ehm Un vele Ci manca No Principes Tiare Sagitare Se un vele Ci manca E chi cavolo Prendiamo come vele Boh E' molto Complesso Allora Artillery Due ci sono specializzati In artillery Questo è crafty E scout Questo è Cautius Questo invece Reckless Quindi andrei Su questo qua Che non è Necautius Nei reckless E agreeable Ehm No Andrei su questo Allora Vai Questi li abbiamo presi Ehm Chiudo Ok Dice che non è ben difesa Ehm Che è attacchi da terra Ehm Molto bene Una volta che la parte A est di Lesbo Sarà nostra Guiderò l'assalto Nella città Direttamente Io In persona D'accordo D'accordo Un'unità 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 Quindi loro faranno Il grosso Con l'esercito E noi facciamo Il piccolino In città Va bene Marcerai i tuoi ordini Ma E quindi Adesso che abbiamo Quindi questo è il nostro Accampamento Immagino Ah ce l'avranno Con lui Cos'è questo Outpost Assignment Ci sono delle strutture Che hai aggiunto Che hanno bisogno Di un pretoriano Per essere assegnato Che si è assegnato Loro Alcune sono ingregite Perché non le hai ancora Costruite Ma posso costruire Delle cose Come vengo a scoprire Le cose Assignment Stake time Quindi Lascia i tuoi pretoriani Qua mentre viaggi Ti diranno Quando hanno completato Il loro task A quel punto Puoi tornare All'accampamento E riprenderteli Ah ci sono Degli upgrade Anche Ci sono un ramo Di skill Per l'accampamento Quindi ci servirà A lungo Sto accampamento Non è che concludiamo Subito così Con mitilene E' buon Va bene Gli upgrade costano Delle risorse Di mappa Quindi Mandare le regioni A prendere Delle fattorie Dei Conciatori Delle miniere Di ferro E delle segherie Adesso abbiamo Il deep dispensary Il market E le baracche Baracche Sì È quella di reclutamento Poi possiamo fare L'armeria Il workshop Stockpile Emporium Garrison Wals Forge Hospital Pretorium Foundry C'è di tutto Di più Commerce Housing Pay Fact Palneum De Pot Bat Speculator Speculator Ah questa Replenisher Tactical Items Quindi abbiamo Brucciati Per sempre Pensavo che Tornando qua GG Sistema tutto Ok Ah Ficco Customization Ah Questi sono Quelli che si Prendevano su Twitch Con i drop Vari Emblema Dei pretoriani Ci sono tutti Quelli da sbloccare Ma dovrei aggiungere Poi anche Gli altri Che ho preso Da Twitch Colori della legione Va bene L'emblema Della legione Ok Trofei Aquila Ok E quella Da default Poi anche qua Ci sono quelli Che abbiamo Sbloccato Va bene E gli assignment Cos'è che abbiamo qua Speculator Tent Non ce l'abbiamo Ancora L'emblema Eh Quindi questo qua Le barracks Sta bene No Mettiamo questo Ah no Ma questo è bestia Cosa Prego Ma i miei centurioni Invece Che fine Hanno fatto No No Mettiamo bestia Ma forse Poi ci serve Bestia Però Non facciamo niente Lasciamo perdere Dei Skill point Non spesi Eh Va bene Ma mi sa che Troppo tardi Perché l'episodio È durato tantissimo E ci vediamo nel prossimo Ciao a tutti Buona giornata Grazie a tutti No Grazie per la visione!